Il segno di basket di Lega 2 La patologia drammaticamente attuale, la cosiddetta morte improvvisa. Alessandro Tibetti Andrea Renzi e Daniel Hackett, due azzurri del basket, per uno spot molto importante. Le morti improvvise sul territorio italiano al di sotto i 35 anni sono intorno a 700-1000 l'anno, quindi non sono numeri grandissimi, ma capiamo bene che quando accadono in soggetti giovani sono eventi veramente drammatici. Molti casi, anche tra la popolazione adulta, ultimi quelli di sportivi o ex sportivi famosi e forse proprio per la risonanza che questi episodi hanno avuto che si parla con più frequenza della morte improvvisa. In parole povere, l'improvviso arresto dell'attività cardiaca, senza avvisaglie, senza sintomi premonitori evidenti. L'associazione Ci Vuole Cuori, collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, ha proceduto a uno screening tra gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. In alcuni casi però abbiamo trovato delle condizioni patologiche e siamo intervenuti. È chiaro che poi la percentuale di condizioni patologiche è molto, molto bassa, però almeno siamo riusciti a identificarli. Le associazioni Ci Vuole Cuore e il segno saranno sulle maglie delle rappresentative dell'All Star Game di Lega 2. Divertimento, spettacolo e un pizzico di attenzione, per noi e per chi ci è vicino.